Un piano che proietta le marche verso il futuro in tre step, appuntamenti stabiliti per il 2027, per il 2032 e oltre il 2032 perché insieme al Presidente Acquaroli vogliamo sbloccare le marche. Quelle marche che nel 2018 sono state dall'Unione Europea declassate da regione sviluppata a regione in transizione anche perché hanno un sistema infrastrutturale non adeguate a quello che è il futuro che sta vivendo l'Italia, la nostra nazione, all'interno dell'Unione Europea e dei traffici delle persone e delle merci in campo internazionale. Iniziamo dalla piattaforma logistica naturale della nostra regione che è rappresentata proprio da una regione che si tuffa sul mare di Reatico e quindi guarda verso l'Oriente e noi in questa piattaforma naturale abbiamo porto, aeroporto e interporto, tre infrastrutture strategiche concentrate sul capoluogo di regione. Quindi il capoluogo di regione è un nodo fondamentale non solo dei traffici marchigiani e dei traffici nazionali ma deve diventare sempre più e questa è la nostra proposta che è contenuta nel piano un nodo dei corridoi europei. I 4 miliardi sono i miliardi che noi già abbiamo fatto confluire in questo piano già disponibili da mettere a terra sulla rete stradale, sulla rete ferroviaria, sulla logistica marchigiana che va messa a sistema per cui noi miriamo al passaggio nella nostra regione da una rete infrastrutturale a pettine che segue le nostre valli a una rete infrastrutturale a maglia che unisce sia da un punto stradale che ferroviario tutte le cinque province marchigiane. Parlando delle infrastrutture stradali vogliamo unire la salaria con la Fano Grosseto, quindi la salaria sud con la Fano Grosseto tramite la strada statale 77 Civitanova-Foligno e la strada statale 76 Ancona-Perugia con l'autostrada 14 dove vogliamo ovviamente la cancellazione di quell'imbuto che abbiamo da Porto Sant'Elpidio fino a tutto il sud della nostra regione e quindi la realizzazione della terza corsia ma anche la costruzione di una parallela che nella fascia subappenninica colleghi parallelamente all'autostrada 14 tutto il nostro entroterra. Da nord pensiamo a Durbino, Patrimonio Unesco, a Carpegna i nostri confini con l'Emilia Romagna e con le altre regioni, lì vicino abbiamo anche la Toscana fino a Dascoli Piceno e quindi a Teramo con la 24. Ma la stessa cosa vogliamo fare con la ferrovia. Non dimentichiamoci che in questo piano di infrastrutture che tra poche settimane diventerà legge, oggi approvato dalla giunta regionale, rivendichiamo l'alta velocità per la costa adriatica e quindi un quadruplicamento dei binari in arretramento rispetto all'attuale linea ferroviaria che potrà essere in nome della sostenibilità utilizzata come metropolitana di superficie per il trasporto pubblico locale ma anche il completamento dell'anello ferroviario che da Ascoli Piceno, linea già elettrificata, arriva a Porto d'Ascoli, risale verso Civitanova, entra verso l'interno a Fabriano, raggiunge Pergola, linea riaperta da un punto di vista turistico alcuni mesi fa che vogliamo torni ad essere commerciale per collegare Urbino sia con che con Fabriano e quindi la capitale a Roma. Questo è il progetto di massima dove abbiamo già intercettato risorse importanti insieme a quelle che destiniamo ai porti marchigiani, alla logistica, con l'interporto, non c'è bisogno che vi dica quello che ha fatto il Presidente Acquaroli con l'aeroporto marchigiano, con i voli che finalmente decollano dall'aeroporto di Falconara verso Roma, Napoli e Milano con la continuità territoriale ma anche verso il resto d'Europa.